Oh ragazzi, eccoci qui con la terza parte di questa mini serie di upgrade del nostro avatar. Come avete visto nelle puntate precedenti abbiamo fatto una piccola presentazione dei componenti necessari dove vi ho parlato anche del negozio dove li ho acquistati e vi consiglio di andarlo a vedere, farensframe.com e poi abbiamo parlato nella seconda parte e invece abbiamo smontato completamente l'avata. Abbiamo preparato praticamente tutti i componenti per poterlo trasferire sul nuovo telaio per dargli delle prestazioni decisamente più brillanti. Come sempre sono Guido e prima di iniziare, sigla! Allora, qui abbiamo più o meno tutti i componenti che ci servono. L'unica cosa che conserveremo del frame sarà questa parte qui, che è il castelletto dove viene montata la telecamera e il GPS. Anzi, dove viene montato sostanzialmente il GPS perché poi la telecamera sarà installata direttamente sul telaio. E niente, iniziamo a scartare senza perdere ciò dopo in chiacchiere perché sicuramente non sarà una cosa da 5 minuti. Allora, prima di tutto apriamo il pacchettino e mano a mano che tiriamo fuori le cose vi spiegherò cosa servono. Allora, partiamo innanzitutto dal frame centrale. Quello principale che terrà gran parte del telaio. Allora, noi dobbiamo andare a installare l'elettronica qui sopra. Quindi questa qui sarà la parte alta del nostro drone. Prima cosa che facciamo è andiamo a montare la fotocamera, quindi la gimbal, e dobbiamo andare appunto a riutilizzare i gommini. Visto che non è una cosa semplicissima e bisogna evitare di sciuparli, andiamo a utilizzare all'interno del pacchetto del frame dove hanno inserito tutto, andremo ad utilizzare questo cavettino di rame che hanno messo. Questo ci servirà per poter, diciamo, far passare i gommini all'interno dei fori senza farli danneggiare. E come si fa questa cosa? Allora, bisogna inserire il cavetto nel buco dove dobbiamo far passare il gommino. Quindi siamo in questo buco qui. Poi il cappietto che rimane qui sotto lo facciamo passare nella testa del gommino. Vedete, ho messo il cappio dentro il gommino e ora andandolo a tirare... Il gommino è passato nella parte opposta. Stessa cosa la facciamo su quegli altri due gommini, quindi ristiriamo il cavo. Questo lo potete fare anche con un semplicissimo filo di rame, di un cavetto elettrico molto sottile, per qualsiasi tipo di applicazione. Adesso che abbiamo messo in posizione il modulo con la gimbal e con la telecamera, quello che dobbiamo fare è andare a posizionare il modulo del GPS che andrà messo in questa posizione. Come vedete qui ai lati del foro dove va la vite del GPS ci sono queste due fessure. Queste serviranno per far passare naturalmente i cavi perché poi tutta l'elettronica andrà sotto. Andiamo a prendere il pacchettino, quello dove c'è il indicato central plate. Non so se riuscite a vedere abbastanza bene. Dove ci sono tutti gli accessori del frame centrale e tra le varie viti andiamo a prendere questa qui, quella con testa piatta svasata. Qui vedete c'è la svasatura, di conseguenza si utilizza questa vite così riesce a fare filo con il telaio senza sporgere fuori. Quindi la andiamo ad avvitare. Fate sempre attenzione a non strizzare i vari cavi sotto i pezzi del frame. Qui a fianco, nella fessura a fianco, andiamo ad inserire il connettore della gimbal che poi andrà sulla scheda madre. E come potete vedere qui c'è una feritoia nel telaio, nel frame. Posso mettervelo a fuoco. In questo punto qui. Qui ci andrà fatto passare questo cavo qui. Fate attenzione perché se questo cavo si rompe uno di questi cavetti che vedete qui non funziona più la gimbal o la telecamera. Allora adesso andiamo a lavorare sugli ESC, ovvero la scheda che abbiamo visto all'inizio. Perché dovremmo andare a saldare i motori e dovremmo andare a saldare il connettore della batteria utilizzando i cavetti in dotazione. Quindi andiamo a posizionare la scheda ESC su questo affare che utilizzo appunto per fare le saldature, per tenermi ferme le schede elettroniche. Soprattutto se sono piccoline. E accendiamo il saldatore. Prepariamo la spugnetta, prepariamo lo stagno. Così diamo una rinfrescata con dello stagno fresco alle piazzoline. E togliamo lo stagno in eccesso. Ho acquistato anche un saldatore nuovo, il famosissimo saldatore TS80, però ancora lo devo attivare. Sicuramente nel prossimo video mi vedrete utilizzarlo perché so che è un ottimo articolo per chi fa questo genere di saldature. Ok, a questo punto possiamo saldare i motori. Allora, per saldare i motori, visto che a differenza dei droni da FPV non possiamo andare ad agire sul firmware, comunque sul software per sistemare il verso di rotazione, dobbiamo fare attenzione a mantenere la linearità del cavo, ovvero non farli intrecciare. Perché i motori di brushless, che sono quelli che utilizziamo per i nostri droni, il verso di rotazione viene deciso dall'ordine in cui vengono saldati i cavi. Quindi se noi li teniamo così, allora gireranno nel verso giusto. Se noi li teniamo intrecciati, c'è il rischio che un motore giri nel verso sbagliato. Quindi iniziamo dal primo. Allora, a questo punto che abbiamo saldato tutti e quattro i motori e per saldare nel modo corretto devono essere rivolti con, diciamo, se l'esc è rivolto in questo modo, quindi con la pasta saldante verso l'alto, la pasta, scusate, la pasta termica verso l'alto, i motori devono essere rivolti verso il basso, altrimenti sarebbero montati nel modo sbagliato. Quindi c'è il rischio che girerebbero nella parte opposta, perciò poi scendare smonta tutto e diventa tutto un po' complicato. Ora ci dedichiamo a preparare il connettore, il connettore della batteria. Semmai vi lascio anche uno schema, una foto di come vanno collegati i cavetti. Quindi questo lo mettiamo da una parte. Prendiamo un altro aggeggio e andiamo ad attaccare questo. Sempre con la dotazione che ci dà la dita che ha prodotto il frame, quindi l'axis flying, andiamo a prendere queste cose qui. Andiamo a prendere i cavetti della batteria, che c'è scritto proprio bat più bat meno, poi prendiamo il cavetto che serve per i segnali della batteria e poi prendiamo questi tubicini qui, che sono termorestringenti, ovvero creano una guaina intorno al cavetto per evitare che le saldature siano appunto a vista. Allora, come andranno saldati? Mettiamo, innanzitutto prendiamo i cavetti quelli più grossi, di cui ce ne servirà uno rosso e uno nero, gli altri due sono, diciamo, in più. Li mettiamo da una parte, potrebbero far comodo, ma non ci servono. Li spegliamo leggermente, si possono spegliare benissimo con l'unghia, tanto sono cavetti siliconici, sicché si tagliano perfettamente senza bisogno della spella cavi. e li andiamo a prestagnare da tutte e due le parti, in modo da facilitarci poi le fasi di saldatura dopo. Uno. E due. Uno. E due. Allora, come vanno collegati? Sulla parte esterna, vediamo se riesco a mettere a fuoco, sulla parte esterna ci va il più, sulla parte interna ci va il meno, e qui ci vanno due cavetti, diciamo, ci possiamo mettere anche tutte e due cavetti neti, che andiamo a prestagnare, anzi, questi sono già prestagnati, quindi questi ne basta tirarne fuori due. Uno. E due. Poi nel caso fossero un pochino troppo lunghi, dovrebbero essere a misura, se non ricordo male. Nel caso fossero un pochino troppo lunghi, li andiamo naturalmente a scorciare. Quindi andiamo a posizionare, questo lo giriamo sotto sopra, che è meglio, e andiamo a posizionare i due cavetti segnale, qui su questi due pin più piccolini. E qui ci vanno un po' di stagno, però che qui stagna non ce n'è. andiamo a sorprendere. E qui ci vanno un po' di stagno, Ora andiamo a prendere il termone stringente, ne tagliamo un pezzettino. Ora come vedete con l'aiuto o della testa della punta del saldatore o con l'utilizzo di un accendino ho fatto stringere i termorestringenti intorno ai cavi. In questo modo hanno sia un pochino più di rigidità e si evita qualsiasi tipo di cortocircuito. Ora quello che dobbiamo andare a fare è a prendere le misure per vedere se la lunghezza è sufficiente. Quindi andiamo a prendere il nostro ESC che abbiamo montato. Quindi l'ESC andrà più o meno in questa posizione e qui ci andrà il connettore della batteria come potete vedere. Quindi i cavi sono un po' lunghini quindi cosa facciamo? Li tagliamo a misura così siamo sicuri che non ci siano ostacoli quando lo montiamo. Quindi Uno E questo arriva qui. Poi qui c'è il negativo Due E poi qui sopra c'è In questo punto Vediamo cosa c'è scritto qui ci dovrebbe essere il batton Sì Qui c'è il cavetto quello che era grigio E qui c'è il cavetto di TX ovvero la comunicazione con gli ESC per fare l'aggiornamento firmware La comunicazione penso che sia UART oppure I2C comunque una comunicazione digitale Perciò li possiamo tagliare Allora riprendiamo un mano l'ESC Qui abbiamo accorciato i cavi e spellati e prestagnati nella lunghezza giusta E ora possiamo iniziare ad incollarli A incollarli A saldarli Quindi mettiamo qui al polo positivo Il cavetto rosso Sul polo negativo Il cavetto nero naturalmente E poi abbiamo Il cavetto diciamo questo verso l'alto che troviamo in questa posizione Che andrà su battery Su bat on E quest'altro andrà su TX Ecco fatto Allora visto che stiamo lavorando col saldatore Ne approfittiamo per fare un'altra cosa Andiamo a Prendere il sacchetto con scritto bottom plate kit Prendiamo i cavetti che ci danno in dotazione E i connettori USB Type-C Che ci danno in dotazione Perché questo? Perché così poi il saldatore lo mettiamo da parte E non ci dovrebbe servire più Questo qui è una specie di prolunga Che noi possiamo fare al Diciamo al connettore Perché lo andremo a inserire La femmina Andremo a inserire qui Sulla scheda madre diciamo Che è quella che è difficilmente raggiungibile Quando abbiamo il drone montato con la scocca originale Il maschio invece lo andremo a posizionare Qui sulla parte del Del telaio Ok in questo modo Perciò quando andremo a collegare poi Con l'USB-C il drone al computer O a qualsiasi dispositivo Per qualsiasi motivo Sarà più facile da raggiungere E non dovremmo diventare matti Per arrivare sulla scheda madre Quindi Prendiamo il connettore Prestagniamo le piazzoline Nel frattempo ho cambiato la punta Al saldatore Ne ho messa una più sottile Visto che qui c'è meno spazio Quella puntona di prima Non era l'ideale Andiamo a mettere un po' di stagno qui Sui Diciamo sui quattro Sulle quattro piazzoline Ecco fatto Prendiamo a questo punto i cavetti E li andiamo A saldare Uno Due Tre E quattro Ora questo Per farci un'idea Della lunghezza dei cavi Si può fare una prova Noi sappiamo che Il telaio Viene montato Qui così Cioè il telaio La scheda madre Il connettore Andrà qui così Siamo in questa situazione Più o meno Qui ci andrà Questa a fare qui Montata questa maniera E i cavetti Devono arrivare Qui sotto Quindi li possiamo togliere Cinque centimetri Li possiamo scorciare Di cinque centimetri Prendiamo le forbici E solito lavoro Quindi Spegliamoli Facciamo Tutti Della stessa lunghezza E E li prestagniamo E che poi Li andremo a saldare Sul connettore Femmina Ci vuole anche questa Che si sganciasse Che si sganciasse La manina Qui Ok Adesso Prendiamo Il connettore Femmina E dobbiamo andare A rispettare L'ordine Che abbiamo utilizzato Qui Quindi ci abbiamo Magari vi lascio Un grafico GND Allora intanto Prestagniamo Queste pezzoline E vediamo Un po' Allora GND GND Qui dove ce l'abbiamo GND GND Allora Eh Cosa Grazie. Ecco fatto. Questo dovrebbe essere l'ordine corretto. Adesso, visto che abbiamo fatto la prolunga del connettore USB, lo possiamo mettere da una parte. Iniziamo a rimettere gli adesivi qui che proteggono un pochino i connettori della batteria da eventuali cortocircuiti, anche se servono, diciamo, il giusto. E ne dovremmo avere quattro. Due da una parte e due da quest'altra parte. E ora possiamo andare a rimettere la nostra scheda ESC nella sua posizione. Ah, prima di far questo però, questi qui ormai di colla non ce n'hanno più niente. Prima di far questo prendiamo questo pezzetto di adesivo che c'è in dotazione con il kit del telaio. Questi magari li rifacciamo con il kit del telaio e lo andiamo ad applicare in questo punto qui. Anche questo serve per evitare eventuali cortocircuiti. Tagliamo quello che ce n'è subito. Ecco fatto. E visto che ci siamo, con i pezzi che avanzano andiamo a ricostruire anche questi affari qui. Allora, a questo punto siamo veramente in una botte di ferro. Abbiamo fatto tutte le connessioni necessarie. Abbiamo isolato tutti i contatti. Possiamo andare a rimettere il nostro ESC nella sua posizione all'interno dello stack. Quindi, questo si rimette qui. Controlliamo che non ci siano strozzature dei cavetti. Sembrerebbe di no. Il connettore è allineato. E quindi a questo punto ci possiamo andare a rimettere il suo tappino. che va messo in questa posizione. Ok. Quindi, gli mettiamo le viti. Sono le uniche due viti che andiamo a riciclare dal vecchio frame. E a questo punto possiamo andare a collegare il connettore dell'ESC che abbiamo staccato in precedenza. Ecco qui. Spero abbia messo a fuoco. Se non è messo a fuoco, vi ripeto, ho rimeso in posizione il tappino e ho ricollegato semplicemente il connettore dell'ESC che avevamo staccato in precedenza. Allora, a questo punto, che con il saldatore abbiamo finito, con l'occasione che mi si era spente la telecamera perché si era surriscaldata, ho anche accorciato un po' i cavi motore, altrimenti sarebbero stati troppo lunghi per questo telaio qui. Comunque, detto questo, possiamo andare a rimontare il nostro ESC all'interno dello stack, quindi all'interno, diciamo, di dove c'è anche la scheda di volo, la scheda madre e tutto il resto. Quindi, lo andiamo a posizionare. Andiamo a rimettere il tappino. E ci mettiamo le due viti, le uniche viti che andiamo a recuperare dal vecchio setup. Facciamo attenzione a non strizzare i cavi tra le scocche perché altrimenti c'è il rischio che potremmo far saltare qualcosa. Andiamo a ricollegare il connettore dell'ESC nella sua nella sua sede. Adesso, a questo punto, possiamo iniziare a montare la stack sul nostro telaio. Quindi, per far questo, andiamo a prendere questa piattina di alluminio che verrà posizionata qui, in questo modo, e dobbiamo prendere le due vitine, quelle più lunghe, che sono queste qui con la testa cilindrica. Quindi, andiamo a posizionare la stack, naturalmente con il connettore verso la parte posteriore. Inseriamo la vite qui dentro e cerchiamo di farla andare nella sua posizione. Stringiamola leggermente. Mettiamo anche quell'altra. Stringiamo leggermente anche questa e prima di stringerle del tutto controlliamo che non ci siano cavetti schiacciati. Ok, sembrerebbe tutto libero, quindi le possiamo stringere definitivamente, senza esagerare, naturalmente. e ora iniziamo a posizionare i motori. In ogni motore, naturalmente viene dato in dotazione un pacchettino con dentro sei viti, quattro più corte e due più lunghe. quelle più lunghe andranno montate, andranno utilizzate per montare le eliche, quindi dobbiamo utilizzare le quattro più corte per fissare il motore. Intanto ne mettiamo una per giusto per evitare che il motore non vada in giro da tutte le parti e poi fisseremo anche quelle altre. Anche qui non le stringete a morte perché il motore è d'alluminio e quindi rischierete di... Allora, a questo punto che abbiamo montato i motori possiamo andare a riagganciare il connettore del GPS e il connettore della gimbal. Il nostro drone sta iniziando piano piano a prendere forma, a riprendere forma. E visto che ci siamo ci mettiamo anche qui le vitine così blocchiamo definitivamente i connettori. Allora andiamo a cercare le viti. 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 Sì! A presto. Andiamo a riattaccare anche qui il connettore nella fessura, cioè il portafilo diciamo, che qui c'è una fessurina per bloccarci questi fili. Uno di qua e uno di qua. Allora, prima di andare a rimontare il telaietto, dobbiamo andare a mettere il blocco del connettore della batteria, che ce lo danno con questa cosa stampata in 3D. E noi dovremmo andare a utilizzare queste viti un pochino più lunghe. Una e ci mettiamo anche l'altra. Che andranno a bloccarsi qui in corrispondenza di questi due fori, dove naturalmente c'è il passaggio delle viti. Uno. E due. Dobbiamo strizzare un po' di più. Sì. Ok, e così il connettore della batteria non può scappare in nessun modo. Adesso, a questo punto, andiamo a prendere il telaietto. E lo mettiamo in posizione, però bisogna fare attenzione a non schiacciare qui il cavo della gimbal. Quindi lo facciamo entrare nella sua sede, speriamo che ci resti. E andiamo ad avvitare le viti da sotto, che sono queste viti un po' più piccoline. Anzi, prima montiamo le due viti sui lati del GPS. Una e due. E poi sotto andiamo a mettere queste quattro vitine. Anzi, ora andiamo a mettere le viti sui lati del GPS. Le ultime due vite, invece, dobbiamo utilizzare questa sorta di distanziatori di dischetti che sono qui. Grazie a tutti. ok siamo a un buon punto ragazzi adesso a questo punto possiamo mettere un attimo da parte lui e iniziamo a preparare il pezzo inferiore del frame dove questo sarà la parte interna quindi diciamo questo andrà così sì così col connettore dell'USB da questa parte perciò per preparare questo andiamo a prendere la bustina con il bottom plate kit dove ci sono tutte le vite e tutto il necessario e possiamo andare a inserire subito il plug della porta USB andando a utilizzare queste vitine con la testa sbasata una e due e da qui ci andiamo a mettere sempre le viti queste sbasate ma un po' più grosse con questi stand off corti uno, due, tre e quattro e ciò li metteremo così ecco fatto ora a questo punto questo è preparato e qui ci andremo a mettere questi tappini qui sopra che sono sempre stampati in 3D che sarebbero una sorta di carrellino di atterraggio ora questo robot noi lo dobbiamo andare a montare qui sopra in questo modo e per far questo noi dobbiamo andare a installare gli stand off quelli più lunghi che andranno uno qui e uno qui dietro e qui ci mettiamo questa vite con la testa sbasata stessa cosa qui sul retro e qui bisogna stare attenti bisogna farsi un po' di spazio per evitare di strizzare il cavo della batteria che abbiamo saldato poco fa ecco ci vuole la punta un po' più grossa ecco fatto ora a questo punto ne possiamo andare a collegare il connettore usb di prolunga che abbiamo visto poco fa e andiamo ad avvitare le viti che vanno qui dietro ok cosa ci resta da fare ora ora ci resta ad andare a montare le propeller guard che sarebbero appunto questi affari qui ovvero quelli che proteggeranno diciamo il drone dai motori dagli urti che andranno montati in questa maniera allora bisognerà avvitarli qui e qui all'altezza diciamo del frame basso davanti e dietro mentre qui sui lati ci andrà messo lo standoff allora inseriamo il primo di qua e qui ci andiamo a mettere il nostro tappino cioè che poi non è un tappino ma è il diciamo l'altra parte parte di carbonio dove c'è il diciamo la filettatura dove vantano Sì, non è vero. di qua stesso lavoro lo facciamo da quest'altra parte e lo stesso lavoro lo dobbiamo fare anche per quest'altro propeller guard prendiamo di nuovo le viti lunghe ok ora a questo punto ci resta che montare questi due standoff che vanno qui sotto che vengono montati con le viti quelle più lunghe di tutti questo lo mettiamo da quest'altra parte prendiamo quell'altra vite lunga che dov'è? qui fate attenzione naturalmente qui al filo dell'antenna perché si rimane strizzato poi non ce la fate più a inserirlo dentro come è successo a me ora buongiorno Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Mettiamoci le due viti più corte da qui sopra Una e due E poi andiamo a collegare l'ultimo componente che resta Ovvero il sensore per il posizionamento visuale Prendiamo le due viti rimanenti Mettiamo la punta piccina Abbiamo quasi fatto eh ragazzi Abbiamo quasi ultima cosa che resta da fare è il posizionamento delle antenne e andremo a utilizzare questi affarini qui che noi monteremo in questo modo uno e due a questo punto il nostro Avata modificato, truccato e completo giunti a questo punto ragazzi dovremmo essere riusciti a completare questo lungo ma divertente intervento spero che avete apprezzato l'impegno nel portarvi un contenuto un po' diverso perché su YouTube Italia non c'erano, nonostante ci siano miliardi di canali rivolti ai droni soprattutto DJI non c'è nessuno in cui vi mostrava come fare questo lavoretto che per un appassionato di FPV può sembrare una cosa abbastanza semplice perché alla fine non è che c'è da fare grandi numeri ma per un utente medio purtroppo la cosa non è così semplice inoltre c'è da dire che siamo a lavorare soprattutto per quanto riguarda la parte di saldatura con delle elettroniche che non nascono per essere diciamo manomesse dal consumatore di conseguenza a differenza magari delle centraline di volo per i droni da FPV che molto spesso vengono vendute appunto per essere saldate dal dall'appassionato, dal pilota in questo caso DJI cerca di fare in modo che non ci si possa mettere le mani perciò può essere facile sbagliare qualcosa e danneggiare l'elettronica del drone che diventerebbe una cosa probabilmente rimediabile comunque troppe chiacchiere lasciamo stare questo discorso come al solito io vi saluto vi invito a iscrivervi al mio canale e lasciate un like se questo video vi è piaciuto vediamo se riesco a tirar fuori anche un video bonus per premiare il vostro impegno nell'aver visto questa serie lunghissima di tre episodi lunghissimi tutti e tre e avermi dato fiducia anche questa volta vediamo un po cosa riesco a fare magari vi faccio un confronto di top speed in volo acro tra la versione taroccata del lavata con la versione diciamo con il frame e motori e le eliche originali basta chiacchierare come sempre vi auguro buoni voli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti